Ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando del cosiddetto di DL Crack dal governo regionale 11 milioni di euro per contrastare questo grave fenomeno che riguarda soprattutto i giovani. La nostra regione compie un passo fondamentale nella tutela delle nuove generazioni e nella lotta contro le dipendenze, con particolare attenzione al fenomeno devastante del Crack e di altre sostanze stupefacenti. Vogliamo offrire una copertura normativa completa che non solo intervenga sulla prevenzione ma si concentri anche sulla cura e il reinserimento sociale di chi vi cade vittima. Ecco perché, così come promesso, stiamo assicurando una copertura finanziaria di 11,2 milioni di euro al disegno di legge che a breve verrà esaminato dalla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Queste le parole del Presidente della Regione, Renato Schifani. La salute dei nostri giovani, aggiunge il Governatore, è una priorità assoluta. Non possiamo permettere che le droghe distruggano il loro futuro. Questo provvedimento non è soltanto una risposta legislativa ma rappresenta un impegno concreto da parte delle istituzioni per sostenere famiglie e comunità nella lotta quotidiana contro le forme di dipendenza. La nostra regione, prosegue il Presidente, sarà in prima linea vicina a chi soffre ma anche determinata nel contrastare il traffico e l'uso di sostanze stupefacenti sul nostro territorio. Il futuro appartiene ai giovani e con questa norma vogliamo fare in modo che abbiano tutti gli strumenti necessari per affrontarlo al meglio, lontano da qualsiasi insidia. Cresce la dotazione economica del bando chiamato Sicilia che piace 2024. Si parla in questo caso di attività produttive, ma per i dettagli. Vediamo il servizio. Incrementata e più che raddoppiata la dotazione finanziaria del bando Sicilia che piace 2024 enti locali. L'iniziale budget previsto dall'avviso passa da 400.925.000 euro circa a valere sul capitolo del bilancio della regione siciliana. Questo vorrà dire che tutti e cento i progetti presentati dai comuni siciliani che sono stati ritenuti ammessi e finanziabili riceveranno il contributo in conto capitale fino ad un massimo di 10.000 euro ciascuno. Si tratta di progetti per iniziative di sviluppo in settori come agroalimentare, artigianato, ambiente, nautica, moda, turismo e no gastronomia e per iniziative di sviluppo turistico e valorizzazione del territorio che dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2024. Una prima graduatoria provvisoria aveva permesso la concessione del contributo soltanto a 42 progetti, mentre 57 erano stati ritenuti ammissibili ma non immediatamente finanziabili. Sono lieto di annunciare un significativo incremento della dotazione finanziaria per il bando Sicilia che piace, un'iniziativa strategica per sostenere e promuovere lo sviluppo dei nostri enti locali. Questo aumento consentirà di ampliare la partecipazione finanziaria ai progetti di grande impatto per il rilancio economico della nostra isola, afferma l'assessore alle attività produttive Edita Maio. L'obiettivo è incentivare le amministrazioni locali a investire in iniziative che valorizzino le risorse territoriali e migliorino la qualità della vita dei cittadini con particolare attenzione alla sostenibilità, all'innovazione e alla promozione delle eccellenze siciliane. Approvati dunque dal Dipartimento regionale delle attività produttive anche gli elenchi definitivi dei progetti ammessi e finanziabili e di quelli esclusi per inammissibilità presentati lo scorso maggio. Dei 100 progetti di sviluppo ammessi, 41 riguardano la provincia di Messina, 25 Palermo, 9 Agrigento, 9 Catania, 4 Trapani e 4 Enna, 3 Ragusa e 3 Caltanissetta e infine 2 Siracusa. Il contributo regionale in conto capitale sarà al massimo dell'80% del costo dell'intera iniziativa fino ad un massimo di 10.000 euro a progetto al netto di IVA. Parliamo di lavoro prorogati in Sicilia i termini per i progetti dei cantieri di servizi. L'assessorato regionale del lavoro ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione dei progetti esecutivi dei cantieri di servizi in favore dei comuni. La nuova scadenza è stata fissata al 31 ottobre 2024. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Dipartimento Lavoro Ettore Foti, darà dunque più tempo agli enti locali per completare le procedure. Abbiamo accolto le istanze di molte amministrazioni e predisposto una seconda e definitiva proroga, dichiara l'assessore Nuccia Albano. Diversi comuni ammessi al finanziamento dei cantieri di servizi hanno fatto sapere che nonostante abbiano avviato la procedura per la selezione dei soggetti da ammettere non hanno potuto ultimare l'iter di redazione e presentazione dei progetti esecutivi entro il termine fissato al 13 settembre a causa di varie difficoltà legate anche all'elevato numero di persone da selezionare. Sono in tutto 25 i comuni siciliani ai quali sono stati assegnati i finanziamenti per i cantieri di servizi con il piano di riparto approvato nell'aprile scorso dal Dipartimento. La dotazione complessiva dell'iniziativa ammonta 3,7 milioni di euro a valere sui fondi POC 2014-2020. In seguito alle difficoltà segnalate dalle prime amministrazioni nel riuscire a presentare i progetti esecutivi entro l'originaria scadenza di luglio, il Dipartimento del Lavoro aveva rinviato il termine già una prima volta al 13 settembre. Nati come misura per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione dovute alla mancanza di lavoro, i cantieri di servizi prevedono l'impiego di cittadini senza occupazione in programmi di pubblica utilità. L'obiettivo è dunque di inserire o reinserire nel mondo del lavoro chi non vi è mai entrato o chi ne è stato escluso. Cresce in altezza il cratere voragine dell'Etna che adesso supera i 3.400 metri. Vediamo il servizio. Cresce in altezza il cratere voragine dell'Etna. Con il materiale ladico accumulato con le ultime eruzioni, l'orlo orientale ha raggiunto quota 3.400 metri d'altezza, arrivando a toccare 3.403 metri sul livello del mare. La rilevazione è contenuta nel bollettino settimanale nel periodo tra il 9 e il 15 settembre sul vulcano attivo più alto d'Europa a cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio etneo di Catania, che lo pubblica sul proprio sito. Il sorpasso sul cratere di sud-est, che deteneva il record dal 10 agosto del 2021 e che le ultime stime davano alto 3.347 metri, era già avvenuto nello scorso luglio, quando la voragine toccava quota 3.369 metri d'altezza. Quello precedente, che resisteva dagli anni 70 del secolo scorso, era del cratere di nord-est. Cresciuto anche il cratere Bocca Nuova, che adesso tocca quota 3.380 metri sul livello del mare. Il cratere voragine, silente da oltre tre anni, la sua ultima emissione di cenere era del 3 aprile del 2021, ha cominciato a crescere in altezza dal 14 giugno scorso, con una debolissima attività stromboliana che ha poi avuto un progressivo aumento nell'intensità del fenomeno, trasformatosi poi in fontane di lava. Il materiale piroclastico emesso, con l'intensa e frequente attività stromboliana, ha portato ad accumuli sul cratere voragine, aumentando la sua altezza fino a fargli superare i 3.400 metri, con un margine di errore nelle quote stimato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un metro. Parliamo adesso di vaccini anti-covid, c'è una novità, ovvero la dose annuale sarà gratuita per tutti. La campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti-covid 19-2024-25 utilizzerà vaccini adattati alla variante JN1 e una dose di richiamo viene offerta attivamente alle categorie a rischio e gratuitamente a tutti. La dose di richiamo è annuale e unica. L'aver contratto un'infezione da SARS-CoV-2, anche recente dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione. E questo quanto indica la nuova circolare per la campagna vaccinale anti-covid, firmata dal direttore generale per la prevenzione del Ministero della Salute Francesco Vaia e dal capo dipartimento Maria Rosaria Campitiello. Nella circolare si raccomanda a regioni e province autonome di implementare l'organizzazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, farmacie e con la rete specialistica ospedaliera e territoriale, incluse le strutture per lungodegenti, rendendo possibile la prenotazione tramite piattaforma regionale online. Per coloro che accedono sia alla vaccinazione anti-SARS-CoV-19 che quella M-Pox, resta invece ancora valida l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane, ovvero 28 giorni, tra un vaccino e l'altro. Cronaca da Partinico nel Palermitano dove un 54enne è finito in Manente dopo aver scippato un'anziana donna. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno tratto in arresto un 54enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di furto con strappo aggravato. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari della stazione di Partinico sono intervenuti nei pressi di via Armato dove poco prima una donna di 86 anni, disabile, aveva subito uno scippo. Nello specifico l'indagato avrebbe avvicinato la vittima mentre stava passeggiando per le vie del centro di Partinico e con la scusa di chiederle dei consigli sull'affitto di un appartamento in zona, approfittando della cordialità dell'anziana signora, le avrebbe strappato la collanina d'oro che portava al collo per poi darsi alla fuga. All'arrivo dei carabinieri la malcapitata, in stato di shock, è stata immediatamente soccorsa e rassicurata, fortunatamente non riportando lesioni se non una lieve escoriazione al collo dovuta allo strappo del gioiello. La tempestiva azione investigativa dei militari, che hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti in zona e gli elementi forniti dalla stessa vittima, hanno permesso di delineare l'identità del presunto autore del reato. I carabinieri hanno così proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'indiziato recuperandola con la mina dell'86enne, la quale, quando ha potuto riavere il gioiello a cui era affettivamente legata, si è lasciata andare alla commozione superando lo spavento per quanto accaduto. L'arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Palermo, che ha disposto per il 54enne i domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. La diocesi di Acireale nella Catanese ha conferito il mandato ai catechisti per il nuovo anno pastorale. Vediamo il servizio. Si è svolto, presso il santuario di Vena, il tradizionale pellegrinaggio mandato per i catechisti della diocesi di Acireale. L'appuntamento ha segnato l'inizio ufficiale del nuovo anno pastorale catechistico 2024-2025, richiamando numerosi fedeli e operatori pastorali. A presiedere la celebrazione eucaristica, Monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi, che ha anche conferito il mandato agli oltre 500 catechisti presenti. I partecipanti, radunati al vecchio ostello della gioventù, si sono poi diretti verso il santuario di Vena. Il cammino, immerso nella bellezza della natura circostante, ha rappresentato un momento di riflessione e comunione in sintonia con lo spirito stesso del pellegrinaggio. I fedeli hanno preso parte alla concelebrazione eucaristica, al centro della quale si è svolto il momento più atteso della serata, il conferimento del mandato diocesano ai catechisti da parte di Monsignor Raspanti. È stato consegnato il segno di una corda con il nodo perché la catechesi sia libera da insicurezze e incertezze e possa sciogliere i nodi delle paure e camminare nella speranza. Quest'anno abbiamo voluto dare proprio come segno di questo momento del mandato diocesano dei catechisti alcune parole chiavi. La parola chiave sicuramente è questa della corresponsabilità che il nostro vescovo ha sottolineato in maniera particolare e che coserà anche lo strumento, il percorso che vivremo durante l'anno, ma anche i pellegrini e la speranza perché durante quest'anno inizieremo il percorso giubilare e quindi che ci vedrà poi il 12 settembre vivere il giubileo dei catechisti in cattedrale. E poi l'altro aspetto che sottolineiamo in maniera particolare è proprio questo cammino sinodale che deve aiutarci a sciogliere i nodi della nostra esistenza, ecco che è un po' buia, un po' tra virgolette disperata, per annunciare questa speranza che è Gesù Cristo che ci viene incontro. Un recente studio ha dimostrato che tre caffè al giorno possono far calare il rischio di diabete, ictus e malattie cardiache. Un consumo moderato di caffè e bevande contenenti caffeina fa bene alla salute metabolica riducendo il rischio di diabete, cardiopatia coronarica e ictus. A rivelarlo è uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism dove in sintesi è emerso che l'assunzione regolare di caffè o caffeina, soprattutto a livelli moderati, è associata a un rischio ridotto di multimorbidità cardiometabolica che si riferisce alla coesistenza di almeno due malattie cardiometaboliche. Consumare tre tazze di caffè o 200-300 mg di caffeina al giorno potrebbe aiutare dunque a ridurre il rischio di sviluppare multimorbidità cardiometabolica. Lo studio ha rivelato che rispetto ai non consumatori o a chi consuma meno di 100 mg di caffeina al giorno, i consumatori di quantità moderate di caffè, parliamo di tre tazze al giorno o di caffeina, dunque 200-300 mg al giorno, avevano un rischio ridotto del 48,1% o 40,7% di sviluppare multimorbidità cardiometabolica. Gli esperti hanno analizzato i dati della Biobanca britannica su oltre 500.000 partecipanti di età compresa tra i 37 e i 73 anni. Il gruppo finale di partecipanti includeva un totale di 172.315 persone senza malattie cardiometaboliche per l'analisi della caffeina e 188.091 per l'analisi del consumo di caffè e tè. Il consumo di caffè e caffeina a tutti i livelli è risultato inversamente associato al rischio di multimorbidità cardiometabolica. Coloro che hanno riferito un consumo moderato avevano il rischio più basso. L'assunzione moderata di caffè dunque o caffeina è risultata inversamente associata a quasi tutte le fasi di sviluppo della multimorbidità cardiometabolica. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.